Uno speciale frecciarossa dedicato al generale Carlo Alberto dalla Chiesa viaggerà da Torino a Reggio Calabria. È stata presentata alla stazione di Roma Termini l'iniziativa promossa dall'Arma dei Carabinieri del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, che partirà l'8 settembre fino al 31 ottobre. È un messaggio che vede il treno idealmente come un punto di connessione tra nord e sud, portando dei valori quali l'etica, la legalità, la lotta alla malavita, il sacrificio umano di questa persona che ha dato tanto all'Arma dei Carabinieri e al paese col suo esempio, sacrificando la propria vita. Sulle fiancate del treno è stato riprodotto il volto del generale della Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, accompagnato anche da una delle sue più celebri frasi. Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli. È un simbolo che parla a tutte le eserazioni, parla ancora oggi a tutte le eserazioni. Perché questo? Perché il senso della sua vita di Dio, perché la testimonianza del suo sacrificio trasmettercelo, ma anche perché dalla Chiesa è stato della sua vita, dentro questa grande attenzione e grande servizio allo Stato e al dovere che la sua divisa imponeva, è stato anche un curioso ricercatore di un rapporto con i giovani.